ma quanto si divertono oggi questi bimbi we're talking about thanksgiving right? ah abbiamo visto il film della nave che è arrivata con la mayflower e poi abbiamo imparato le paroline del thanksgiving corn, turkey, pie e adesso anche per colorare loro seguono le mese sana instruction ma quanto so bravi abbiamo parlato del thanksgiving tutta la storia abbiamo imparato le paroline del thanksgiving anche semplicemente l'attività di colorare diventa un accorbitro importantissimo perché io dico wait for me to sign my instruction devono aspettare le mie istruzioni per colorare qualsiasi oggetto e quindi dico colorate il corn in inglese ovviamente let's color the corn green and yellow anche se loro sono bravissimi i colori li sanno bene benissimo ormai ma associano la parola al comando ma soprattutto la frase